Ehi Alexa, si google, ho bisogno di un aiuto con i regali di Natale, hai qualche idea? Potrei consigliarti diversi prodotti dallo store Amazon ma sarei di parte, piuttosto prova a sentire Emilio di solito fa sempre un video riguardo in questo periodo. Ottimo consiglio grazie a breve e concisa, come sempre non come qualcuno di mia conoscenza che è ultra logorroica. Ehi la, i paesini delle Alpi Svizzere ci sono diversi, ecco appunto, come si fa a spegnerla? Non rientra nelle mie capacità, ma per gestrarti posso raccontare una canzone di Natale. E' il momento. Resettami ti prego. Ebbene amici, è arrivato quel periodo dell'anno come forse avrete notato qui dalle mie spalle. Ovviamente non poteva mancare il video come ogni anno. Quindi oggi Zio Emi vi aiuta a fare i regali di Natale e vi aiuta anche a risparmiare qualcosina perché troverete anche alcuni codici sconto qui in descrizione al video. Ho selezionato alcune dei regali davvero top, alcune anche low cost così per andare in conto a tutte le esigenze. Dunque direi di mostrarveli subito trasferendoci però nello studio. Eccoci qui ragazzi in studio per mostrarvi tutte le idee di regalo di questo video. Da notare i dettagli ragazzi, le luci a tema natalizio. E cominciamo subito dalla prima idea di regalo che state già vedendo perché riguarda le magliette di pampling come questa che sto indossando in questo momento. Ovviamente in questo caso a tema nerd tech con flop disc. Ragazzi chissà chi di voi è talmente tanto vecchio come me che se li ricorda ancora. Ma tornando a noi potete acquistare queste magliette ragazzi molto simpatiche appunto a tema nerd della cultura pop in generale. Un'ottima idea di regalo economica perché comunque per adesso c'è proprio l'evento per Natale. Quindi sono tutte in sconto a 11 euro più calze in omaggio. Inoltre se aggiungete il mio codice sconto che vi do qui avrete anche un'ulteriore paia di calze in omaggio. Sul sito ragazzi trovate tantissime magliette di diverse fantasie, temi. Insomma sicuramente troverete quella perfetta per la persona a cui la regalerete. E detto questo passiamo subito al prossimo. E raga stiamo parlando della Fire TV di Amazon. Ebbene sì ragazzi questo è davvero un ottimo regalo low cost da fare ed è sempre tanto gradito. Perché a cosa serve per chi non conoscesse la Fire TV? Praticamente si tratta di questa che a tutti gli effetti sembrerebbe una pendrive. È talmente compatta e piccola ma si può collegare a una qualsiasi tv ovviamente moderna non tv a tubo cadotico ragazzi. Con HDMI per trasformarla in una tv smart a tutti gli effetti. Oppure se avete comunque già una tv smart ma il software spesso installato è lento ragazzi. Oppure non ci sono mai tutte le app di streaming, di servizi di streaming che necessitate. Grazie a questa aggiungerete praticamente tutte le app di cui avrete bisogno. E con un sistema fluido ragazzi ormai il sistema del Fire OS è davvero molto prestante e affidabile. E vi assicuro che trasformerà radicalmente la tv in cui la monterete. E poi è facilissima da portarsi dietro perché la staccate come una pendrive piccolissima, compatta e la portate praticamente dove volete. E avrete sempre i vostri account dei servizi streaming con voi. Ad esempio potete portarlo anche in viaggio in realtà. Quindi se siete in una casa vacanze, in un hotel eccetera con una qualsiasi tv potete collegarlo e vedervi i vostri film e serie tv preferiti. E dicevo economica perché pensate che la versione light, quella base che alla fine non ha nulla da invidiare a questa. Se non appunto la risoluzione perché questa nello specifico è la nuova Fire TV 4K. Ok ha il wifi 6 quindi più stabilità per quanto riguarda la connessione wireless. Ma in realtà vi può bastare anche il modello base. Che pensate costa spesso il sconto sotto i 20 euro. Potete controllarlo tramite l'assistente vocale di Amazon di cui non farò adesso il nome se non si attiva il mondo. Cioè il pulsante è dedicato. Potete fare qualsiasi cosa davvero. Cerca canale Emilio Primavera su YouTube. Lo cerco su YouTube. Insomma chi ha già una Fire TV sa a cosa mi riferisco. E per adattarsi proprio a tutte le tv lui arriva anche con questo adattatore HDMI che praticamente gli permette di andarsi a inserire in qualsiasi porta HDMI grazie a questo prolunghetto. E guardate ho anche la versione precedente. Quella di ora forse è leggermente più grande ma di poco. Però comunque secondo me è più carina da vedere perché queste forme così bombate eccetera. Questi invece i telecomandi adesso hanno sostituito il pulsante veloce Disney Plus con il pulsante per entrare praticamente la scorciatoia per andare a selezionare tutte le app. Forse sì più comoda però per chi magari aveva Disney Plus potrebbe preferire il vecchio telecomando. Dunque ragazzi vi straconsiglio questo prodotto se volete fare un regalo low cost tech che sicuramente farà la felicità di chi lo riceve. Passiamo al prossimo. Bene ragazzi adesso parliamo di questo prodottino qui che è davvero stupendo per chi ama il retro gaming perché è una mini console retro gaming come non ne ho viste mai raga. Infatti non sapevo se farci un video dedicato perché so che qui sul canale apprezzate tantissimo queste console. Ho fatto già diversi video a riguardo quindi magari fatemelo sapere nei commenti se volete un video più approfondito su questa consolina ma adesso ve la mostro perché è davvero un gioiellino. Lei è la Mac Dye, presumo si pronunci così il nome dell'azienda, il modello specifico è Miu Mini Plus e vedete arriva con questa custodia molto carina e molto comoda e all'interno c'è la console. E che console ragazzi guardate l'aspetto è quello di un mini gameboy in realtà ma nasconde diverse chicche davvero fenomenali. Intanto il livello costruttivo è altissimo mi fa impazzire questo design semi trasparente della scocca c'è in realtà anche di altri colori c'è anche violetto oppure bianco non trasparente. Come vedete a tutti i tasti del gameboy più questi dorsali che servono ovviamente ai giochi un po' più moderni di quelli del gameboy come ad esempio quelli PS1. Infatti lei emula fino a PS1 davvero in modo egregio ragazzi. La cosa che amo soprattutto di questa console è che ha un display praticamente boardless che permette di avere un display abbastanza ampio da giocare in modo egregio ma contenendo comunque le dimensioni della console e permettergli di essere comunque super portatile. Lei monta un sistema operativo che si chiama Onion e devo dire che anche qui mi ha stupito il sistema operativo è davvero molto fluido e prestante soprattutto è super personalizzabile si possono scaricare diversi temi per andare a personalizzare praticamente tutto. E lei arriva già con una micro SD piena praticamente di rom di giochi ci sono migliaia di giochi già preinstallati ovviamente dovete scegliere in fase di acquisto la memoria c'è da 64 128 32 giga se non sbaglio ovviamente più è grande la memoria più giochi troverete al suo interno. L'emulazione ragazzi è fuori di testa perché davvero non ho trovato nessun tipo di impuntamento ovviamente potete scegliere diversi tipi di emulatori al suo interno ma è già ottimizzata e pronta all'uso una volta uscita dalla scatola. Perciò vi chiedo il piccolo ma... Perciò vi chiedo il piccolo ma... Se come me siete sulla trentina amerete sicuramente questo prodottino perché vi va a rievocare diversi ricordi. Poi la batteria dura davvero tanto cioè non sono riuscito a scaricarla ancora dura più o meno 5-6 ore di fila quindi non so che altro dirvi ragazzi è davvero un regalo che gli appassionati di questo tema apprezzeranno tantissimo. Vi lascio il link in descrizione e ho anche un codice sconto per voi quindi troverete tutto lì. Mi raccomando fatemi sapere se volete un video dedicato dove vi faccio vedere nello specifico tutti gli emulatori come gira eccetera eccetera. Detto questo passiamo al prossimo. E adesso ragazzi ovviamente non poteva mancare una cover per in questo caso iPhone e nello specifico iPhone 15 Pro ma ci sono anche di altri iPhone ma non è una cover normale raga. Questa è la cover di Magback e ha una particolarità davvero unica. Oltre ad avere questo design trasparente davvero molto carino ha la particolarità di sì essere MagSafe quindi col magnete del MagSafe ma ha anche vedete la scocca qui un indizio un magnete extra che permette di andare ad attaccare iPhone praticamente a qualsiasi superficie metallica e renderlo così quasi un action cam. Per noi creator è davvero comodissima questa cosa tra l'altro se non avete una superficie metallica in cui attaccarla in confezione danno anche questa stringhetta di metallo adesiva ovviamente da poter attaccare praticamente dove vi serve per andare poi a metterci iPhone. Ve la mostro montata ovviamente ecco qui iPhone montato come vedete protegge ovviamente anche egregiamente da tutti i lati e di tipo in silicone quindi top. Quindi una cover sia carina esteticamente ma soprattutto funzionale per andare appunto a sfruttare questa caratteristica per realizzare video particolari selfie eccetera eccetera. Anche di lei ho un codice sconto in realtà quindi lo trovate insieme al link qui in descrizione mi raccomando se volete regalarla applicate il codice sconto così risparmiate anche qualcosina in più. E adesso ragazzi altre idee regalo per utenti Apple in particolare per chi ha un iPhone perché vi mostro questo power bank davvero molto particolare. È un power bank MagSafe ovviamente ma guardate qui leggete bene da 10.000 mAh praticamente infinito. Adesso ve lo mostro meglio. È dell'azienda Huracano ragazzi eccolo qui azienda italiana quindi ragazzi mi raccomando supportiamo le aziende italiane. Tra l'altro è molto particolare perché nonostante sia da 10.000 guardate che compatto rispetto ad altri simili e soprattutto ha la particolarità di avere qui in basso una presa USB-C che permette di andarlo a ricaricare anche tramite filo. È come se fosse praticamente attaccato a una presa di corrente a muro perché ricarica fino a 20 Watt quindi top se vede premura potete andarlo a caricare anche così ma se no in alternativa lui come sempre ha il magnete MagSafe. Basta attaccarlo qui premere il pulsantino e lui va subito in ricarica. Anche una ricarica wireless veloce perché arriva fino a 15 Watt e se consideriamo quello Apple ragazzi che non arriva neanche a 3.000 mAh e costa decisamente di più beh fare voi i conti. Anche di questo ho un codice sconto quindi ragazzi link e codice sconto anche di lui se volete dargli un'occhiata in descrizione. Passiamo al prossimo. Oh raga questo è un prodotto molto particolare e molto simpatico. Che cos'è? Beh allora vi dico soltanto che è di Divum e per chi segue da tempo il canale avrà già visto qualche altro prodotto di questa azienda. Azienda che fa dei prodotti sicuramente geek un po' da nerd ma molto simpatici perché sono questi quadri. A volte sono quadri a volte sono mini pc comunque hanno delle forme davvero molto particolari che mostrano delle animazioni pop art oppure possono diventare orologi. Molto particolari oppure mostrare una vostra grafica personalizzata insomma sono dei quadri dinamici e davvero molto simpatici ma in questo caso come vedete ancora più particolare perché stiamo parlando del time gate. Che cos'è? Beh faccio prima a mostrarvelo. Cioè guardate qui borsetta time gate e poi guardate che figata sembra proprio non so una macchina del tempo un prodotto misterioso guardate che packaging davvero top come idea regale davvero perfetta. Poi dopo di che si apre e all'interno c'è lui guardate qua che cosa si sono inventati ragazzi di Divum cioè ha dei dettagli davvero stile cyberpunk steampunk insomma come volete e di tecnologia un po' retro. Ma ve lo mostro acceso perché così non rende se trovo il filo magari ok trovato ok si è acceso raga guardate ha 5 display che possono mostrare sia un'unica animazione sia singolarmente cose diverse. Come state vedendo in questo momento sta partendo io l'ho già impostato perché ha la sua app da quale possiamo praticamente personalizzarlo come vogliamo e ad esempio adesso come vedete io gli ho messo un counter perché si è anche un counter social in questo caso di youtube del mio canale e poi stile natalizio ho messo alcune animazioni già precaricate perché c'è la community che carica ogni giorno diverse animazioni. Lui li prende dal cloud e praticamente ve le spara qui proprio come succede anche per altri prodotti sempre di Divum ma la particolarità di questo è proprio nel suo design da scrivania così davvero molto carino e dal fatto che comunque potete impostare diverse cose con questi schermi. Ovviamente anche come avrete notato delle luci led che potete sia accendere che no e regolare anche la luminosità e poi oltre a questa modalità c'è anche la modalità semplice orologio che appunto vi permette di mostrare degli orologi davvero molto particolari e simpatici. Insomma ragazzi un'idea regalo davvero originale e simpatica anche di lui trovate il link in descrizione. La prossima idea regalo ragazzi non è tra le più economiche perché si parla di questa bottiglia qui molto particolare e vi anticipo già non costa pochissimo ma per un semplice motivo. Ha una tecnologia al suo interno è una bottiglia smart ovviamente e ha una tecnologia proprietaria che permette pensate un po' di depurare l'acqua e di autopulirsi. Quindi è una bottiglia che praticamente non farà mai puzza e vi assicuro la provo già da tempo ed è così effettivamente. Ma guardiamola prima bene insieme si tratta della Lark forse qualcuno di voi l'avrà già sentito parlare di queste bottiglie. Questa nello specifico è quella termica che permette ovviamente di mantenere le temperature calde e fredde per più tempo. Guardate intanto il design è davvero molto bello ci sono di diversi colori in realtà. Questa è quella addirittura però più grande da quasi un litro ma ci sono anche quelle un po' più piccole. Allora come funziona? Praticamente tutto avviene da questo tappo qui. Come vedete si è illuminato perché in questo proprio preciso momento sta andando a depurare l'interno e autopulirsi in realtà perché al momento è vuota. Ma come funziona? Praticamente grazie a questo brevetto lui ha questo tappo che si ricarica tramite USB in realtà micro USB non USB C male male questo. Funziona tramite raggi UV che sparano all'interno della bottiglia appunto per andare a eliminare tutti i batteri al suo interno. Devo dire che è un'idea davvero geniale. Ora sull'affidabilità della depurazione dell'acqua ragazzi non lo so. In realtà se non fa mai puzza un motivo c'è vuol dire che qualcosa fa e funziona però non ci metterei la mano sul fuoco sul fatto che potete andare a bere praticamente qualsiasi tipo di acqua che trovate in giro. Alcuni youtuber americani in realtà hanno fatto vedere alcuni video che raccolgono l'acqua dagli uscelli dai fiumi e la bevono tranquillamente dopo averla depurata con questa bottiglia. Lei non va a filtrarla però quindi non va a filtrare l'acqua semplicemente depura dai batteri eccetera. Io mi trovo davvero molto bene ragazzi perché è l'unica bottiglia che non puzza mai questo già è un must poi se unito al fatto anche che è una bottiglia termica che mantiene caldo e freddo è comunque già di per sé un'ottima bottiglia. Quindi se volete regalare una bottiglia tech smart particolare ragazzi trovate il link in descrizione anche di lei. Ah tra l'altro ci sono anche alcuni gadget accessori che potete acquistare come questo appunto porta bottiglia da viaggio. Siamo arrivati così ragazzi all'ultima idea e regalo di questo video che è questa fantastica custodia per portatili che sia sia un mac un pc non importa basta che non superino i 14 pollici. Ma che cos'è perché è particolare ve l'ho ammasso subito lei è di Orbit K è molto particolare nella forma perché guardate un po'. Mettiamo il caso andate al lavoro o in ufficio o comunque da qualche parte col vostro mac per lavorarci allora prendete l'aprite tac vedete si apre ulteriormente estraete il vostro computer portatile lo poggiate qui e ragazzi come vedete questa superficie può essere utilizzata per andare a controllare il mouse. Quindi è un vero e proprio tappetino da mouse praticamente si trasforma in una postazione da viaggio e davvero comodissima ragazzi davvero molto particolare non avevo mai visto nulla di simile. Anche questa potrebbe essere un'idea regalo molto originale per chi capita spesso che viaggia e lavora magari fuori casa all'aperto. Una volta finito si chiude si rinserisce qui nella parte dove abbiamo usato il mouse e tac tac si riporta con sé davvero top. Questi di Orbit K sono dei geni ragazzi fanno sempre questi prodotti così particolari e li amo tantissimo. Trovate ovviamente anche di lei link. Molto bene amici per questo video è tutto ma non escludo che arriveranno altre idee regalo prima di Natale ovviamente in tempo per permettervi di fare questi acquisti. Soprattutto su Instagram quindi mi raccomando seguimi su Instagram perché lì pubblicherò video brevi real con altri idee regalo sicuramente prima di Natale. E come sempre ragazzi ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti se siete capitati qui per caso e lasciare un like se il video vi è piaciuto vi è stato utile e attivate la campanellina per non perdere proprio il prossimo video. Ciao!